Buongiorno a tutti e benvenuti al saluto del lunedì dalla nostra Solo Affitti Car e da Angelo Camilleri Addis, il vostro mister affitti Brianza. Oggi sono un po' raffreddato, lo ammetto, ma nulla mi impedirà di avere una settimana davvero interessante e soprattutto produttiva. Infatti partiamo subito con la giornata di oggi con Anna che si trova al mercato di Desio per il progetto di Solo Affitti al Mercato. Quindi potrete trovare il nostro punto informativo dove richiedere informazioni al nostro addetto specializzato nel mondo degli affitti e fissare un appuntamento conoscitivo e progettare insieme il programma per affittare il vostro immobile. Quindi ricevere tutte le informazioni più importanti, capire qual è il metodo operativo per selezionare il proprio inquilino e quindi procedere passo passo alla locazione del vostro immobile. Vi anticipo anche che nel mese di ottobre, precisamente nella seconda metà del mese, avremo con noi una ragazza che rimarrà poi per i prossimi mesi che arriva direttamente dall'Istituto Paola Di Rosa. Viene nei nostri uffici per affrontare il suo stage. Per noi è un'esperienza già avuta quest'anno e che ripeteremo. Siamo convinti che possa essere l'interscambio così come lo è stato per l'ultima volta. E anche se il mondo degli affitti di fatto è un mondo degli adulti, vedere comunque questo mondo con gli occhi di una ragazza più giovane ci può dare sicuramente degli ottimi spunti per migliorarci e creare nuovi progetti interessanti per tutti voi. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una settimana cotonica.